Zampano facciamo un passo indietro la gara di Cesena, una delle gare più brutte giocate dal Pescara che è successo in terra di Romagna. Abbiamo fatto comunque una brutta partita, non bisogna negarlo. Penso oltre a Livorno e Novara una delle partite più brutte. Noi comunque abbiamo preparato sempre bene la partita col mister, poi Cesena è un campo ostico, molto difficile raggiungere dei punti in quel campo. Noi comunque siamo andati lì con due vittorie, abbiamo cercato di fare la partita, solo che poi loro sono venuti ad attaccarci molto alti e ci hanno creato molte difficoltà. Comunque ci sia una grande squadra, quindi non siamo preoccupati, però adesso pensiamo a sabato, allo Spezia e cerchiamo di rifarci sabato. Dobbligò il riscatto con una formazione reduce da quattro sconfitte consecutive che però nelle ultime ore ha battuto la Salernitana in Coppa Italia. Ho visto, 2-0. Lo Spezia è una grande squadra, anche se adesso sta facendo pochi punti, dobbiamo stare attenti. Adesso vedremo dei video con il mister, stiamo preparando già la partita con il loro 4-4-2. Noi andiamo in campo più che altro adesso che giochiamo in casa, anche per raggiungere la vittoria, anche per i tifosi che sono venuti in gran numero a Cesena. Quanto vi preoccupa e se vi preoccupa lo stato di forma della formazione Ligure che però ha cambiato allenatore? Dobbiamo stare sempre attenti, comunque le davanti sono bravi, Nenè, che io comunque avevo giocato a Verona, è un gran giocatore. Poi anche i vari Situm e altri giocatori sono degli ottimi giocatori, anche se in questo momento stanno facendo pochi risultati, come ho detto prima. Noi andremo lì facendo la nostra partita e cerchiamo di raggiungere la vittoria, che è la cosa principale, più importante. L'assenza di Calaiò tra i Liguri è però una notizia buona per voi difensori? Sicuramente sì, è un grande attaccante, comunque lo Spezza non è fatto solo di lui, è fatto anche da altri giocatori, quindi la prepareremo al meglio la partita.